Ciao a tutti, sono Olivia Caramella e finalmente questo è il video su come fare i capelli rossi in più la mia hair story anzi, inizierò con la mia hair story quindi se non ve ne frega un cazzo andate subito in fondo ma sappiate che mi offendo allora, la mia prima tinta me la ricordo come se fosse ieri me la feci a 13 anni, in terza media era una cosa un po' strana all'epoca i tempi sono cambiati non mi ero fatta niente di che tipo una specie di enne che mi dava dei riflessi rossi facevo wow, i capelli rossi sì, ero molto felice poi avevo lunghissimi bellissimi poi l'estate dei miei 13 anni sono andata in Inghilterra ho visto tipo una tinta rossa ho fatto no, la voglio fa' allora, oltre a quei riflessi mi sono fatta una ciocca proprio rossa così tipo qua sotto, così e mi piace wow, che belli i miei capelli poi mi sono fatta tipo i capelli neri con una ciocca fucsia proprio mi piaceva un sacco questa ciocca fucsia poi mi sono fatta il nuovo nero con tutte ciocche rosse così a caso poi, visto che mi piace così tanto il fucsia ho detto sì, voglio i capelli fucsia adesso mi decoloro e non sapendo niente ho preso, ho mischiato due cose qua mi sono messa il decolorante in testa e il delirio per due giorni sono andata in giro col cappello perché non si poteva vedere tipo questo a te ro biondo a platino poi c'erano delle ciocche che comunque prima cioè avevo rosse mi erano diventate tipo rosine poi gialli, marroni era un casino allora sono andata al parrucchiere e gli ho detto ma io volevo i capelli rosa e mi ho detto no, il rosa no mi ho messo una tinta viola che all'inizio era figa però mi ha retto tipo due lavaggi e già facevano schifo l'ho detto no, non si può fare così allora mi sono rifatta nera e ci sono rimasta un po' poi ho andato al parrucchiere a rifarmi nero blu con tutto un ciuffo me l'ho tagliato tipo però era proprio un bel taglio e li ho tenuti neri per un po' a una certa ho detto no io voglio i miei capelli rosa e ho detto che li voglio rosa e li avrò rosa allora sono andata al parrucchiere me li ha decolorati ma i sapeti i parrucchieri vi dicono tesoro io non te la faccio la decolorazione sennò i capelli li butti ma io li va quindi mi sono girata un po' nei parrucchieri ma niente allora ho fatto questa cosa molto intelligente sono andata al parrucchiere mi sono fatta decolorare i capelli un po' quindi c'avevo tipo marroncini e poi pam sono andata da un altro parrucchiere a farmi fare un'altra decolorazione e mi erano venuti gialli avevo i capelli gialli appena sono tornata a casa mi sono fatta la tinta rosa e wow avevo i capelli più rosa di tutto il mondo e mi giuro erano bellissimi e super rosa erano favolosi ho tenuto i capelli rosa per tipo 6 mesi ormai ero diventata la ragazza con i capelli rosa ma che ci volete fare? erano bellissimi finchè non mi era venuta una ricrescita così avevo presente un buco nero in testa e allora ho detto ma basta rosa mi faccio blu e mi sono messa questa tinta blu in testa e poi dopo questo blu ho detto basta colori adesso mi compro l'extension e mi metto l'extension nere allora mi sono fatta la tinta nera con l'extension che erano belli il problema è che dopo tipo manco due settimane mi erano rotta il cazzo dell'extension e non me le mettevo più perché erano quelle a clip e quindi ho avuto sti capelli neri solo che dopo un po' sti capelli neri mi avevano rotta il cazzo e io ho detto vai i capelli lilla e allora ho iniziato il deririo ai miei capelli mi sono fatta tipo nove decolorazioni nel giro di due settimane quindi ho fatto da nero tinto che mi ero appena fatta la tinta tra l'altro quindi gran bel genere che sono a biondo platino e vi giuro è stato terribile ogni giorno ho i capelli più chiari sono passata dal marrone dal marroncino rossiccio arancione biondino biondo biondo platino e praticamente quasi bianco finché non mi sono fatta questa tinta lilla che erano bellissimi i miei capelli lilla il problema è che erano di una consistenza di paglia erano veramente paglia io facevo così e rimanevano sui miei capelli vi giuro io potevo cotonarmi i capelli con le mani e basta a parte che mi si erano spezzati in una maniera allucinante cioè tipo io ce l'avevo più o meno lunghi fino a qua me li sono ritrovati qua cioè tanto così mi si sono spezzati ogni volta che mi pettino i capelli tutti i pezzettini dei capelli ovunque non si poteva fare a me sono tenuta tipo sti capelli lilla per un mesetto poi ho detto ma se ritorniamo a rosa mi sono rifatta la tinta rosa la tinta rosa ha riattaccato in una maniera bellissima perché non erano gialli sotto erano proprio rosa fucsia veramente che bruciavano gli occhi era un faro poi a un certo punto ho detto oddio ma io voglio farmi la frangetta ho preso mi sono tagliata i capelli a caso e mi sono fatta una frangetta tremenda veramente orribile volevo farmela tipo così o scena l'ho tenuta tipo una settimana l'ho fatto che è sta verde l'ho levata subito dopo un mese di rosa ho detto ma se mi faccio turchese mi sono fatta i capelli turchesi che erano un sacco figli devo dire pure l'ho tenuti finché non sono diventati tipo azzurrini chiari chiari allora ho detto oh ma io ho i capelli rossi e mi sono fatta i capelli rossi che ho ottenuto mi ricordo per una settimana a una certa ho detto no basta raga io mi sono rotta il cazzo mi faccio nera e ci rimango per sempre mi sono fatta nera sempre con l'extension vabbè e ci sono rimasta per tantissimo tipo mi sono fatta nera d'estate tipo a marzo ho detto basta io ho i capelli rossi con la frangetta perché tra l'altro i miei capelli stavano diventando sceni stavano crescendo sì ma con una forma non avevo più una forma non avevo niente e allora sono andata al parrucchiere che mi ha tagliato i capelli mi ha fatto la frangetta che inizialmente era lunga cioè era una frangetta lunga poi vabbè mi sono tagliata la frangetta da sola avanti nei mesi mi sono rifatta la tinta da sola e da allora tipo da più di un anno cioè tipo adesso da quasi due anni oh mio dio da quasi due anni io ho i capelli rossi ma voi vi rendete conto? quasi due anni che ho i capelli rossi che sono riuscita a tenere un colore di capelli per così tanto tempo a parte una volta dovevo farmi la tinta rossa sono andata da risparmio casa gli ho detto scusi ma questa è rossa sì che è rossa non sai leggere? c'è scritto tipo rosso no? però comunque io so che ci stanno varie cose mi sono fatta la tinta e mi sono usciti i capelli tipo viola scuri ho fatto tipo sono corsa da un parrucchiere nessuno ha visto niente per fortuna comunque questo colore questo rosso acceso l'ho tenuto con il tempo perché inizialmente era tipo marroncino tendente al rosso e io poi sono riuscita a mandarlo così e come ho fatto? e adesso vi spiegherò di solito mi chiedono ma tu hai fatto decolorazioni o cose per avere i capelli così? no io non ho fatto decolorazioni io sono andata da un parrucchiere a farmi fare i capelli rossi come ho già detto non erano proprio rossi io comunque rafforzavo il colore quando iniziavano a sbiadirsi con queste tinte che probabilmente conoscerete tutti però vabbè io lo dico sono della Direction sono praticamente dei balsami colorati che sono semipermanenti non hanno ammoniaca non rovinano i capelli e durano più o meno in teoria dovrebbero durare tipo pochi lavaggi ma a me mi durano una cifra so che appunto ad alcune persone non durano niente ma dipende anche da che capelli avete da che colore avete e su che base di colori avete perché se un capello decolorato questa tinta attacca molto meglio se è un capello sano anche se siete biondi se comunque non sono rovinati i vostri capelli non vi attacca bene queste qua inizialmente le compravo a Roma nei negozi però te li fanno pagare un fottio dei soldi queste qui compratele su internet perché nei negozi costano veramente una cifra tipo 10 euro a baratto ma poi vi rendete conto 10 euro 9 10 euro ho visto anche 12 euro non si può fare compratele su internet come faccio io le pago tipo 3 euro e 54 l'una che comunque conviene una cifra perché di queste ne faccio fuori 2 al mese devo fare la tinta ogni mese andando avanti col tempo più ti fai le tinte più ti diventano rossi ogni tanto faccio anche delle tinte quelle là che si comprano nei posti quelle che devi mischia le cose comunque rossi per decolorare sempre di più i capelli adesso il mio metodo è questo io vado dal parrucchiere mi faccio fare la tinta rossa che mi leva la ricrescita che è proprio un rosso così che mi fa il parrucchiere e poi per un po' di mesi sto a posto quando mi si scoloriscono appunto rinforzo il colore con queste poi arrivato dal parrucchiere che mi rifà la tinta quindi non è che faccio la decolorazione è proprio la tinta che decolora i capelli per decolorazione e cose così o vi fate aiutare da qualcuno che lo sa fare oppure un casino come vedete alla fine non sono tanto rovinati i miei capelli io ho appena rifatto la tinta praticamente da una settimana e comunque come vedete sono molto belli e rossi e wow luccicanti niente questo è come ottenere i capelli rossi e spero che vi sia stato utile e ciao ciao